Ciao a tutti! Oggi vediamo quali possono essere i motivi per cui il cane si scrolla, un comportamento che avremmo potuto osservare tante volte in numerose situazioni diverse. La prima motivazione, la più ovvia, è che il cane si scrolla quando è bagnato in seguito al bagno vero e proprio o dopo essersi bagnato con la pioggia. In questo caso il cane si scrolla con un movimento rapido e intenso, anche se ovviamente non si asciuga in modo completo. Un'altra motivazione è quella di riscaldare il corpo, rimetterlo in movimento, stiracchiarsi, dopo essere stato a lungofermo perché ha dormito o perché si è fatto un riposino. Il cane si scrolla anche per rimuovere lo sporco dal corpo, per esempio ramoscelli, foglie, terra e eliminare quindi quello che gli dà fastidio o gli provoca un prurito. Il cane può scrollarsi anche se è infastidito da parassiti o se ha una malattia, per esempio può scrollare l'intero corpo o anche solo la testa, pensiamo nel caso di un otite o di qualcosa che gli è finito del padiglione auricolare, per esempio i famigerati forasacchi. Quando vediamo il cane che tiene un'orecchia più bassa dell'altra e poi ogni tanto si scrolla dovremmo sicuramente controllare quell'orecchio. Possiamo osservarla anche quando termina una situazione spiacevole che ha messo il cane sotto stress. In questo caso rappresenta proprio un sollievo perché per il cane è uno scarico di stress accumulato. Un esempio quando il cane viene accarezzato da sconosciuti e la cosa non gli è particolarmente gradita, viene smanacciato tutto, lui subisce e quando però la gente si allontana si dà una bella scrollata perché finalmente scarica tutto questo fastidio. Può essere anche utilizzato come segnale di calma ma dobbiamo sempre inserirlo nel contesto e vedere se ci sono altri segnali che possiamo cogliere. Il vostro cane in quali situazioni si scrolla? avete evidenziato, osservato dei momenti particolari della giornata in cui lo fa o delle situazioni in cui questo comportamento si ripete? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima, ciao!